Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vogliamo soffermarci su una parte in particolare della serie turca Terra Amara. Dopo aver dato alla luce la nuova piccola, Zuleyla decide di chiamarla Leila. Ma prima di iniziare vi invito a lasciarmi un bel like al video e a iscrivervi al canale per essere così sempre al corrente dei nuovi contenuti e anche per supportarmi. Zuleyla ha appena partorito e si trova nella stanza d'ospedale con Demir e la piccola Culla dove c'è la piccola Leila e insieme c'è anche Unkar. I tre sono lì pieni di gioia per la nuova arrivata nella famiglia Yaman e Unkar se la coccola pronunciando dolci parole e dicendo che è la sua principessa e che è una bimba ben educata. Unkar chiede come vogliono chiamarla. Zuleyla non la fa finire neanche di parlare che le risponde immediatamente Leila. La chiameremo Leila. Unkar sembra un po' stranita ma non perché non le piaccia il nome che ha scelto, bensì perché non capisce da dove deriva per cui chiede a Zuleyla se Leila fosse il nome di sua madre. Zuleyla le spiega che così si chiamava la sua insegnante delle scuole elementari. Donna che alla scomparsa della mamma di Zuleyla precisamente quando era in seconda elementare si prese cura di lei facendole da madre e dandole tutto l'amore possibile che una figlia possa ricevere da un genitore. Zuleyla stava molto bene con lei e con lei ha superato quel tragico momento della morte di sua madre. Ma Zuleyla poi continua raccontando che un giorno la sua maestra ebbe un grave incidente in cui la donna purtroppo perse la vita. Così ha preso la seconda volta una figura materna ed è rimasta di nuovo orfana. Così per onorare la presenza di quella donna nella sua vita che l'ha salvata facendole da madre si era detta che se mai un giorno avesse dato alla luce una bimba l'avrebbe di certo chiamata Leila come lei. Zuleyla era tanto legata alla sua insegnante e ancora oggi ne conserva appieno il suo ricordo. Un bellissimo ricordo perché le persone che ti tengono la mano non si possono mettere nel dimenticatoio. Di loro si avrà sempre un bel ricordo e gratitudine. Inoltre aggiunge che quella donna le ha dato tanto e le ha insegnato molto e lo faceva molto bene. Ricopriva il ruolo della seconda madre in maniera eccellente e spiega che lei quando andava a scuola era sempre spettinata così Leila prendeva in braccio e gli pettinava i capelli mettendoli tra i suoi capelli dei nastri bianchi. Zuleyla ammette e confessa anche il suo dolore nell'aver perso la madre due volte. Demir si è un po' rattristato e le dice che quella storia non gliel'aveva mai raccontata prima d'ora. Come a chiedersi il perché e Zuleyla a questo punto risponde che il motivo è che loro non gli hanno mai chiesto nulla della sua vita e di sua madre. Così Demir si scusa con sua moglie. Nel frattempo nella camera di Zuleyla arriva a Sanye a farle visita. A lei e anche alla piccola Leila e con un sorriso incredibile le augura di riprendersi presto dal parto e dà il benvenuto alla piccola principessa felicissima per la famiglia Yaman e nel cuore un pochettino di invidia perché lei è riuscita a diventare mamma mentre Sanye non lo potrà mai fare. Questa la storia di Leila e del suo nome e la storia di Zuleyla che è rimasta orfana per ben due volte del dolore che ha dovuto superare ma anche della bontà e dell'umanità che ha ricevuto dalla sua insegnante facendo trapelare un bel significato. Zuleyla ha perso sua madre ma allo stesso tempo è stata benedetta da quella donna e inoltre mai giudicare le persone che non conoscendo prima la loro storia mai trattare male il prossimo magari quella persona ha sofferto molto e ora a causa di qualcuno potrebbe continuare a soffrire. La serie Terra Amara non si limita a raccontare una storia superficialmente ma in esso è contenuto anche l'insegnamento della vita. Il video termina qui e se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. A presto!